tre iniziano ad arrivare gli spettatori vi do il benvenuto a questo terzo incontro del ciclo di seminari autunnali del polo universitario virieti la sede distaccata dell'università degli studi della tuscia dopo un avvio la scorsa settimana sul tema della promozione del territorio sulla base del marketing e del turismo sostenibile oggi passiamo ad un altro argomento che invece sono le prospettive future per la sicurezza e la salute sul lavoro in agricoltura e servicoltura un tema che andremo ad affrontare con Massimo Cecchini che è un professore ordinario di meccanica agraria presso l'università degli studi della tuscia ed è inoltre il presidente del consiglio di corso di studi del nuovo corso di laurea magistrale attivato presso il polo eh di Rieti GEDAM che è la gestione digitale nell'agricoltura del territorio montano eh un un seminario che appunto affronterà e ci descriverà i liquidi che possono essere degli effetti negativi sulla eh sicurezza e la salute sul lavoro nell'ambito agricolo e forestale legati ad una serie di cambiamenti in atto eh dal punto di vista tecnologico organizzativo non in ultimo anche il global warming eh il professore andrà dunque a descriverci questi quali sono questi potenziali effetti e dall'altra parte se si possano contrastare per evitare ovviamente un impoverimento di eh un settore primario che è importante sia per quanto riguarda l'economia ma anche per la salvaguardia dell'ambiente. Non aggiungo altro e eh cedo la parola al professor Cecchini ricordandovi che al termine della presentazione potrete sottoporre delle domande eh nella sezione domande e risposte. Buona visione. Grazie e ringrazio la dottoressa Marras e anche il professor Pagnotta che hanno eh organizzato questo ciclo di seminari ehm tutti molto interessanti devo dire ehm che non ho al momento avuto modo di vedere perché ovviamente per motivi di lavoro ma mi riprometto di di riprendere poi quando saranno pubblicati a breve sul canale YouTube del dipartimento. Intanto vado a condividere lo schermo. Ecco questo questo webinar è un po' la prosecuzione di un webinar che fu fatto a giugno organizzato insieme a Porta Futuro Lazio eh fu tenuto all'epoca dall'ingegner Francesco Battelli e si parlava appunto di eh del futuro un po' della dell'agricoltura dal punto di vista degli aspetti di sicurezza e salute. Eh riprenderò quegli argomenti quindi chi chi non ha seguito questo webinar non avrà nessun problema a seguire il mio ehm perché eh partiamo entrambi diciamo da da un documento che vedremo poi eh di partenza e che sarà molto importante proprio per comprendere il futuro di questo settore. Questa è una breve eh una scaletta del della giornata no dopo aver introdotto un po' alcuni aspetti eh vedremo un attimo quali sono le le cosiddette sfide future del settore primario quindi del settore agricolo e forestale e ehm per poi eh fare una panoramica dei principali fattori di rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro eh nel settore e eh passare poi a quelli che potrebbero essere i rischi emergenti diciamo quelli futuri eh con i quali avremo a che fare appunto nel futuro prossimo ehm e poi trarremo alcune conclusioni. E come accennavo il mh seminario parte da da un documento è quello che vediamo qui in alto no? Dell'OSHA, EUOSHA eh Review on the Future of Agriculture and Occupational Safety and Death. Eh che cos'è l'EUOSHA? Eh l'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro. È un'agenzia che si occupa di informazione, sensibilizzazione su queste tematiche nell'ambito dell'Unione Europea e mh e lo fa da da diversi anni. Come vedete è stata istituita nel 94 proprio con un regolamento europeo e poi diciamo è stata un po' mh modificata, rinnovata nel 2019 quando appunto è diventata una propria agenzia, l'attuale agenzia che ha sede a Bilbao. E mh questa questa EUOSHA, questa agenzia si occupa diciamo a diverse iniziative no? Nel corso dell'anno si eh occupa di ehm ad esempio campagne eh di sensibilizzazione che si chiamano ambienti di lavoro sani e sicuri. Sono campagne biennali o triennali come come sarà ad esempio la prossima eh che mirano appunto ad aumentare la consapevolezza su queste tematiche ehm l'ultima campagna che si è conclusa quest'anno eh riguardato i disturbi muscoloscheletrici uno dei fattori di rischio più diffusi eh a livello europeo in tutti i settori lavorativi e si partirà invece dall'anno prossimo con una campagna sulla sul lavoro digitale quindi problemi eh legati all'introduzione della digitalizzazione del mondo del lavoro e sono problemi che affronteremo anche in modo molto così ehm generico ma è mirato all'agricoltura affronteremo anche nella nel webinar di oggi. un'altra iniziativa sono i progetti di valutazione interattiva dei rischi il famoso Oira uno strumento che in realtà tanto famoso non è non è molto conosciuto ma è che può essere utilizzato dai datori di lavoro per ehm supportarli alla valutazione dei rischi e gestione dei rischi nei luoghi di lavoro quindi è una sorta di ehm strumento a disposizione dei dei datori di lavoro per mh affrontare questo problema che alcuni sentono diciamo molto impegnativo che è la valutazione dei rischi poi abbiamo eh alcune indagini ehm mirate soprattutto a aziende europee dei diversi settori che mirano a individuare eh come le aziende affrontano la gestione dei rischi soprattutto dei rischi emergenti eh per poi ovviamente diffondere queste queste buone prassi eh a livello europeo e quindi anche nelle nelle altre aziende analoche eh è un mette online una sorta di Wikipedia della sicurezza cioè un'enciclopedia online collaborativa con informazioni eh proprio mirate alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sviluppa dei progetti di previsione ehm tra l'altro eh il documento di cui parlerò più tardi proprio rientra nell'ambito di uno di questi cioè progetti dove ehm l'obiettivo è quello di individuare mirare ai nuovi rischi eh sul lavoro e quindi i cosiddetti rischi emergenti per la salute e la sicurezza sul lavoro altri studi riguardano poi specifici fattori di rischio quindi specifiche tematiche e infine un'altra iniziativa interessante sono i famosi film di Napo Napo è quel soggetto diciamo quel personaggio che si intravede dietro la la slide sullo sfondo della slide eh un personaggio con il quale hanno creato una serie di di animazioni eh molto brevi molto immediate eh senza dialoghi quindi è soltanto musica e e video eh che servono a sensibilizzare un po' eh datori di lavoro ma anche i lavoratori stessi su aspetti legati alla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro bene questa è un po' una panoramica eh presa proprio dal sito dell'IoWash di di che cosa fa questa agenzia ehm appunto nell'ambito della dei progetti previsionali eh è stato prodotto il documento che vedete qui eh a sinistra un documento che è liberamente scaricabile dal sito di Wash al momento è soltanto in lingua inglese ehm ed è stato praticamente commissionato a un gruppo di ricercatori europei esperti in salute e sicurezza sul lavoro eh con lo scopo di esaminare gli sviluppi futuri del settore agricolo e e di considerare le implicazioni di questi sviluppi sulla sicurezza e salute dei lavoratori in particolare quindi evidenziando quelli che sono i rischi emergenti e mh qui vediamo una delle fasi di diciamo di di sviluppo di questo documento e il documento eh è stato diciamo nasce su una bozza prodotta da un gruppo ristretto di ricercatori europei ehm che poi è stato allargato a un totale di ventuno esperti di sicurezza e salute sul lavoro rappresentanti dei dei diversi paesi e mh e questo tutto è stato fatto a distanza quindi proprio è stato uno dei primi esempi di progetti conclusi nel periodo della pandemia nel periodo del del lockdown nello specifico quindi quando nessuno di noi poteva neanche uscire di casa eh nonostante ciò si è lavorato abbastanza in modo profiguo organizzando degli incontri come questo online eh dove ad esempio si sono creati dei gruppi eh dei gruppi ristretti di 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 esperti che hanno lavorato su singole tematiche dopodiché eh questi gruppi si sono riuniti in una sessione plenaria e si sono scambiati un po' tutti i risultati del loro lavoro in riunioni appunto che che hanno eh che hanno avuto una durata di mezza giornata una giornata e mh alla fine appunto il è stato fatto girare un una versione eh finale di questa bozza che è stata approvata e poi mandata all'OSHA che che l'ha pubblicata quindi come dicevo è stato uno dei primi esempi eh proprio di 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 buona prassi di lavoro durante la pandemia da covid su che cosa si basa questo documento ehm lo studio diciamo il documento di partenza si basano sugli obiettivi della PAC la politica agricola eh comunitaria ehm che vedete appunto rappresentati in questa slide eh la PAC ehm la politica agricola comunitaria propone interventi mirati per raggiungere dei risultati nel settore agricolo e forestale piuttosto ambiziosi e in linea con eh cambiamenti epocali ai quali stiamo assistendo diciamo a livello globale ad esempio da questo punto di vista assumono particolare importanza tutte le azioni mirate alla tutela dell'ambiente al contrasto ai cambiamenti climatici ma anche alla resilienza del settore verso gli stessi cambiamenti eh l'agricoltura dovrebbe garantire un reddito equo agli operatori e prosperità in genere alle aree rurali eh per il per il raggiungimento di questi obiettivi risultano fondamentali anche la crescita nelle conoscenze eh degli operatori e nelle innovazioni introdotte e anche il ricambio generazionale. Altri obiettivi riguardano la sicurezza alimentare eh sia in termini qualitativi ma anche in quelli quantitativi eh vista la necessità di eh sfamare come vedremo più tardi no una popolazione globale in continuo aumento. Per raggiungere eh gli obiettivi definiti dalla politica europea eh abbiamo bisogno nel settore di grossi interventi di modernizzazione. eh questi riguarderanno principalmente due aspetti eh da un lato il cambiamento del capitale fisico vale a dire eh l'introduzione di nuove macchine eh infrastrutture della digitalizzazione e così via. Dall'altra abbiamo anche invece la necessità di un cambiamento eh del capitale umano. Tutte queste nuove tecnologie ad esempio richiedono una maggiori conoscenze o quantomeno un aggiornamento del capitale umano attualmente disponibile. Eh richiederanno senz'altro anche nuove professionalità e da questo punto di vista proprio i corsi di laurea che abbiamo su Tieti sono eh proprio improntati in questa direzione cioè cercare di eh formare eh gli agronomi del futuro quelli che praticamente eh saranno in grado poi di gestire questi questi cambiamenti eh diciamo un po' epocali nell'agricoltura e nella servicoltura. Quindi eh questo report dell'EUosha e questa specie di chiamiamolo brainstorming che è stato realizzato dal gruppo di lavoro internazionale eh partendo da queste da questi presupposti che eh della PAC che rappresentano un po' le sfide per il futuro del settore agricolo e forestale ha cercato eh in primo luogo di individuare i principali trend del settore. Quindi si è partita una fotografia della situazione attuale per cercare appunto di sviluppare eh quelle che quelle che saranno invece quelli che saranno i possibili scenari futuri. Ecco la situazione attuale dal punto di vista della sicurezza e della salute sul lavoro non è non è particolarmente entusiasmante anzi direi tutt'altro in quanto l'agricoltura e la servicoltura risultano tra i settori in assoluto più pericolosi in tutta Europa eh con indici infortunistici paragonabili o molto spesso superiori a quelli di settori ritenuti eh anche più pericolosi come il settore edile ma in realtà eh apparentemente più pericolosi ecco perché di fatto poi si dimostra essere l'agricoltura quello più pericoloso se togliamo qualche altro settore un po' di particolare tipo insomma eh lavoro nelle nelle cave e così via. E come vedete eh studi recenti danno indicazioni su eh casi eh di infortunio mortale nel nel territorio dell'Unione Europea intorno ai cinquecento eh all'anno quindi intorno ai cinquecento casi all'anno con oltre centocinquantamila casi di infortunio non mortale. Il problema è che si tratta eh sicuramente di dati sottostimati. Ad esempio eh in Italia soltanto diciamo negli ultimi anni eh assistiamo a un numero di eh infortuni mortali nel settore agricolo che oscilla fra un po' più di cento diciamo fra i centoventi centocinquanta casi. Eh questo soltanto in Italia quindi figuriamoci se in Europa non superiamo i cinquecento decessi ma il dato sicuramente più sottostimato perché evidentemente i casi mortali è difficile sono difficili un po' da da sfuggire da da nascondere da far sfuggire le statistiche ma quello che invece è un po' è molto sottostimato sono gli altri infortuni infortuni non mortali. Eh qui per esempio in Italia contiamo soltanto di quelli di quelli diciamo ufficiali valori intorno ai trenta trentacinquemila eh infortuni l'anno nel settore agricolo. Eh ma sfuggono mh moltissimi casi per esempio mh quelli eh che diciamo sono a carico di lavoratori in nero oppure anche di lavoratori in generale non assicurati perché vanno a finire nelle statistiche infortuni denunciati all'INAIL che è l'istituto eh per l'assicurazione eh riguardante gli infortuni sul lavoro. Se una persona non è assicurata come potrebbe essere l'esempio un obbista che eh lavora la campagna per hobby magari nei ritagli di tempo sicuramente questi questi dati non andranno mai eh nelle statistiche ufficiali. Anche per quanto riguarda eh la salute eh diciamo intesa semplicemente come assenza di malattia eh in realtà la definizione la definizione è molto più ampia infatti in realtà comprende anche il concetto di eh benessere. Eh comunque la salute per di per sé è molto importante per gli agricoltori è fondamentale per lo sviluppo del settore ma anche per la sola sopravvivenza del settore. Purtroppo anche che qui però vedete come alcuni studi mostrano come eh il sessanta per cento dei lavoratori riferisce di avere una malattia cronica invalidante o una malattia cardiovascolare. Eh il numero di denunce eh di riconoscimenti di malattie professionali in agricoltura e selvicoltura è superiore rispetto a qualsiasi altro settore e e questo diciamo è legato al fatto che alcune delle caratteristiche lavorative sono meno favorevoli rispetto ad altri settori come ad esempio alla presenza di lavoro prettamente manuale, un orario di lavoro atipico, lavori che si concentrano in particolari periodi dell'anno e così via. Che sono proprio tutte tutte caratteristiche del settore agricolo e forestale. Ehm vedete come c'è anche una certa percezione di questa di questo rischio per la salute attraverso tra i lavoratori stessi. Questa vecchia indagine del 2007 mostrava come in Europa eh il 61,3% degli intervistati eh operanti nel settore agricolo e della pesca riferivano che il proprio lavoro ha 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 influito sulla propria salute eh mentre nel settore dire soltanto il 44% diciamo aveva questa questa opinione. In generale c'è comunque una forte preoccupazione da parte degli operatori stessi soprattutto per la salute molto più che eh riguardanti i rischi infortunistici quindi c'è una buona percezione dei rischi per la salute ma una cattiva percezione dei rischi eh per la sicurezza dei rischi di infortunio. Quali sono le principali cause di di infortunio grave o mortale nel settore? Qui le vedete organizzate quindi per in ordine diciamo di 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 importanza in ordine di numero di casi gravi soprattutto. Eh al primo posto sicuramente e di gran lunga ci sono gli infortuni durante il trasporto vuol dire gli infortuni con le macchine utilizzate per il trasporto in primo luogo il trattore e la e la grande maggior maggioranza di questi infortuni riguardano il ribaltamento del veicolo. Eh sono spesso casi letali perché con il ribaltamento si è anche lo schiacciamento dell'operatore e mh soprattutto laddove non si utilizzano appunto i dispositivi di protezione tipici che sono appunto i ROPS cioè le le strutture tipo archi di protezione, roll bar o cabine eh oppure e oppure si usano questi ma non si usa un altro dispositivo importante che è ancora meno utilizzato che è la cintura di sicurezza perché molto spesso in queste in questa in questa dinamica del ribaltamento abbiamo una proiezione eh verso l'esterno del del conducente che poi risulta con facilità schiacciato addirittura a volte anche dalla stessa struttura di protezione che dovrebbe invece garantirgli la sicurezza. Quindi i due elementi cintura e arco vanno utilizzati eh in modo combinato. La seconda causa di infortuni gravi sono le cadute dall'alto per esempio dagli alberi ma anche da tetti a volte anche da sfondamento di tetti spesso si lavora per esempio su vecchie delle tette toglie eh magari in in cemento amianto o quindi in lastre ondurate di ethernet o cose del genere confidando nella loro portata ma in realtà queste sono molto fragili soprattutto quando invecchiano diventano fragili e quindi purtroppo ci sono stati molti casi di sfondamento con quindi caduta ehm caduta all'interno del del fabbricato stesso sotto la tettoia o quant'altro. Altri eh casi gravi si possono avere per essere per essere colpiti da oggetti in caduta o in movimento come per esempio mhm eh proiezione di oggetti in lavorazione di pietre o parti di macchina che si staccano cose del genere ma anche vedete parti di edifici rotoballe che si sganciano magari dalla dalla sollevatore e così via. Tronchi d'albero nel caso della eh del settore forestale e soprattutto quando si opera in terreni in pendenza. Abbiamo diversi casi di annegamento o di asfissia quindi con operatore che rimane eh diciamo eh all'interno di serbatoi d'acqua di liquame o di silos o di cisterne e così via eh ambienti confinati in genere eh per i quali ehm la legge invece prevede particolari procedure di lavoro eh e di sicure e diciamo anche di gestione dell'emergenza che purtroppo spesso non vengono applicate nel settore. Una un buon numero di incidenti avviene anche con il bestiame di grossa taglia soprattutto appunto o per attacchi da parte del bestiame o schiacciamenti nella movimentazione degli animali di grossa taglia. eh rischio meccanico di contatto con parti di macchine in movimento eh rischi di schiacciamento per provo di struttura. Infine contatti eh con parti elettriche in tensione che possono determinare elettrocuzioni o peggio folgorazioni quando parliamo di tensioni molto alte. Quindi vedete che abbiamo questi sono soltanto i principali motivi di infortunio ma ce ne sono tantissimi altri. Chiaramente però se noi riuscissimo a eh evitare questi riusciremo a a togliere praticamente ad abbattere drasticamente il numero di casi. Per quanto riguarda i casi mortali basterebbe intervenire già sul primo e andremo ad eliminare il novanta per cento dei casi mortali. Eh riguardo invece le malattie professionali la quella malattia le malattie diciamo di gran lunga più diffuse nei nei settori agricolo e forestale sono le i disturbi muscolo scheletrici. Quindi eh una serie di patologie che sono correlate all'esposizione a particolari ehm condizioni di lavoro come ad esempio la movimentazione manuale di carichi pesanti oppure la ehm l'adozione di posture incongrue durante il lavoro eh o ancora la necessità di fare gesti ripetuti con gli arti superiori per esempio nel diradamento della frutta nella potatura e così via. Ecco questi questi disturbi sono molto presenti in agricoltura più che in altri settori dove già sono comunque importanti. Eh vedete come ehm ad esempio c'è una forte prevalenza del mal di schiena tra i lavoratori agricoli ma anche di vedete il 57 per cento dei lavoratori agricoli non sono uno scherzo insomma sono più della metà così come più della metà degli degli dei lavoratori agricoli eh denuncia di avere un dolore agli arti superiori e un po' meno poco meno della metà agli arti inferiori. Eh i disturbi muscolo scheletrici sono eh in forte aumento i casi quindi di di malattia denunciata e riconosciuta eh in Italia dall'INAIL. Eh al secondo posto diciamo abbiamo malattie nervose ma un'altra importante categoria sono le eh malattie da rumore eh quindi in particolare l'ipoacusia diciamo la perdita della funzione uditiva perdita progressiva che si ha dopo eh un'esposizione prolungata al rumore in termini di giorni eh mesi o anni di esposizione al a questo agente di rischio e vedete che qui i dati sono abbastanza ehm contraddittori cioè ci sono studi che dicono che sono circa il venti per cento gli addetti agricoli che sono esposti al rumore pericoloso altri studi riportano il quaranta per cento altri ancora di più diciamo che comunque in generale il rumore è sempre presente in agricoltura ed è stato portato soprattutto dalle macchine le macchine hanno sì da una parte eh eliminato molti fattori di rischio pensate alla semplice fatica no dovuta alla diciamo al lavoro svolto manualmente con le macchine si fatica veramente molto meno producendo molto di più però sono poi stati introdotti questi nuovi fattori di rischio come il rumore le vibrazioni che prima non erano proprio presenti nel mondo agricolo un'altra categoria diciamo di di rischi sono quelli di natura chimica dovuti in primo luogo all'utilizzo di prodotti fitosanitari ma anche di fertilizzanti vernici ehm ad esempio anche medicinali per uso veterinario e così via eh ma un'altra sempre dal punto di vista del rischio chimico abbiamo anche l'esposizione alle polveri le polveri sono una caratteristica proprio peculiare dell'agricoltura determinate lavorazioni si sviluppano grossi quantitativi grosse concentrazioni che espongono il lavoratore a valori di di rischio diciamo superiore alle soglie di sicurezza definite a livello internazionale dal punto di vista del rischio chimico il legislatore ha intervenuto diciamo anche a livello europeo con per esempio con la direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nel 2009 che praticamente eh mira a a ridurre e eliminare se possibile l'uso dell'input chimico da questo punto di vista o anche a ridurlo al minimo possibile eh per esempio anche eh tecniche di lotta integrata quindi dove non si fa più soltanto utilizzo di agenti chimici per contrastare le malattie delle piante ma si utilizzano anche altre tecniche come mezzi fisici meccanici e così via in questo modo si riesce appunto a ridurre al minimo l'uso di pesticidi. Oggi con le nuove tecnologie probabilmente poi ne parleremo abbiamo la possibilità di ridurre ulteriormente l'input chimico ad esempio con l'utilizzo di droni spray ma soprattutto di tutto ciò che riguarda l'agricoltura di precisione dove si va ad applicare diciamo la la il prodotto fitosanitario soltanto laddove effettivamente necessario e soltanto quando necessario nelle quantità strettamente necessarie. Eh quindi da questo punto di vista i passi avanti sono stati giganti diciamo ce ne saranno ancora nel prossimo futuro. Infine il rischio biologico sicuramente abbiamo la presenza di rischio biologico in molte attività agricole per esempio quelle zootecniche l'ultima novità tra virgolette è stata proprio quella del covid-19 che eh ha visto anche dei eh focolai significativi nel settore agricolo chiaramente il settore più penalizzato da questo punto di vista è stato il settore sanitario ma l'agricoltura non è stata esente con dei focolai soprattutto nel settore della lavorazione delle carni e della raccolta della frutta. L'Unione europea ha riconosciuto presto diciamo dopo alcuni mesi dall'inizio della pandemia il covid-19 eh fra i fra gli agenti biologici eh pertanto chi si è ammalato di covid durante il lavoro ehm diciamo è stato considerato appunto come una persona che si è infortunata sul lavoro. Si parla di infortunio anche se è una malattia qui perché la causa scatenante è ristretta diciamo a un'esposizione inferiore alla giornata di lavoro. Bene ora per individuare diciamo tutte le principali sfide per la sicurezza e la salute sul lavoro nel settore eh si è partiti da da alcuni segnali di cambiamento che sono chiaramente individuabili nello stato attuale e che eh probabilmente saranno sempre più consolidati in futuro eh già a partire diciamo dal futuro prossimo. Eh un primo elemento da considerare sarà sicuramente la massiccia introduzione di tecnologie che appartengono alla cosiddetta smart farming o agricoltura di precisione. Eh si tratta di tecnologie che comprendono aspetti molto legati alla digitalizzazione di compiti, di processi, eccetera, di applicazione di tecnologie digitali. Eh queste hanno enormi potenzialità sotto certi punti di vista eh per esempio ehm nel nel precedente censimento Istat si evidenziava come soltanto l'un per cento delle aziende utilizzavano un computer per usi diciamo lavorativi. Nella nella più recente censimento questo numero è aumentato di un po' ma non arriva ancora al dieci per cento eppure diciamo le potenzialità sono talmente elevate che si prevede in futuro appunto un un'esplosione vera e propria di applicazioni di tecnologie digitali in agricoltura. Ad esempio oggi molte macchine moderne basano il loro funzionamento su un computer di bordo quindi dando eh l'opportunità agli agricoltori di condurre l'azienda con precisione e quindi ad esempio come dicevo prima fornire input con cimi, acqua, eh fitofarmaci, eccetera solo quando occorrono e dove occorrono. In questo modo si tende appunto a massimizzare le produzioni minimizzando i costi. I costi anche dal punto di vista ambientale come appunto l'impatto sull'ambiente. Eh altre innovazioni smart prevedono ad esempio l'impiego di sensori, di attuatori, di droni, mh droni aerei ma anche droni terrestri eh fino ad arrivare a macchine senza conducente quindi diciamo l'impiego della robotica eh tutto ciò che rientra nel concetto della cosiddetta agricoltura 4.0. Un altro trend importante è quello dei cambiamenti climatici eh ai quali purtroppo sono eh legati mh sempre più frequenti eh problemi di carattere ambientale. Sempre diciamo con riferimento ai cambiamenti climatici ma non solo mh sono ehm saranno presenti sempre più diciamo aspetti di carattere sociale da considerare ad esempio il fenomeno delle migrazioni ma anche diciamo cambiamenti nei gusti, negli usi dei consumatori eh con una ripercussione sui mercati dei prodotti alimentari e in genere eh di provenienza dai settori agroizotecnico e forestale. Notevoli saranno sono già ma saranno anche in futuro i cambiamenti del mercato del lavoro quindi con una forte divisione tra fette di popolazione che abbandonano e non accettano il lavoro in agricoltura e altre persone invece come appunto i migranti eh che accettano di lavorare nel settore ma spesso eh in certa realtà non rischiano di essere sottopagati se non addirittura sfruttati con fenomeni quali ad esempio il caporalato. Da questo punto di vista già ad oggi nel nostro paese stanno mettendo in opera delle serie azioni di contrasto al caporalato. Un altro trend che possiamo considerare ormai già consolidato ma che probabilmente continuerà svilupparsi in futuro riguarda il commercio internazionale con grossi scambi di merci derivanti dal settore agricolo, forestale, della pesca oppure costituenti materia prima per gli stessi settori. Eh questa avrà implicazioni economiche enormi dovute ad esempio ai diversi regimi economici dei diversi paesi del mondo. Quindi assistiamo a produzioni provenienti dai paesi asiatici che hanno prezzi concorrenziali con i nostri prodotti eh nonostante debbano sostenere ingenti costi di trasporto e altre anomalie del genere. Per non parlare poi della facilità di trasportare con i prodotti anche patogeni che sono quindi più soggetti a diffondersi nei vari paesi del mondo. Questi sono quindi i principali trend. Ora vediamo come incidono, come incideranno probabilmente da diversi punti di vista compresa la sicurezza e la salute sul lavoro. L'introduzione della smart farming e delle nuove tecnologie in genere può avere le conseguenze sulla sicurezza e la salute sul lavoro? Diciamo da questo punto di vista si può ragionevolmente presupporre che la diffusione di queste tecnologie porterà a una riduzione degli infortuni eh e delle malattie anche. Se non altro in quanto eh l'introduzione di queste tecnologie porterà probabilmente con i pro, con tutti i pro e i contro eh a una riduzione di richiesta di lavoro manuale. Pensate per esempio al lavoro manuale sostituito dalla robot o da macchina in generale. E quindi con una minore esposizione degli addetti. Diciamo quando parliamo di smart farming noi parliamo di come dicevo prima di una gestione altamente efficiente e ottimizzata dell'attività agricole. Quindi tutte le tecnologie che riguardano l'uso di droni, sistemi GPS, l'automazione, la robotizzazione, la conoscenza dei dati quindi attraverso i big data e l'internet of things, l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata e così via. C'è da considerare che tutte queste tecnologie benché ovviamente siano sicuramente apportatrici di benefici per il settore, hanno anche dei costi. Ora considerate che noi oggi abbiamo un parco macchina, un parco trattore ad esempio che ha un'età media di 25 anni. Questo vuol dire che ci stanno anche trattori in circolazione che hanno 50 anni. E ci fa capire molto sulla capacità di spesa dell'azienda agricola. Ora quindi le tecnologie ci sono, sono belle ma poi quanti potranno permettersele? Qui ci dovrà essere probabilmente un po' un cambiamento di organizzazione del settore perché le piccole aziende che magari non possono dotarsi di queste tecnologie però per esempio potrebbero ricorrere a società di servizi, ad aziende di servizi che le forniranno a prezzi ovviamente contenuti per l'azienda e comunque in grado di essere diciamo più che ripagati poi dalla produzione, dall'ottimizzazione della produzione stessa. Quindi i fattori che un po' riducono l'adozione di queste nuove tecnologie sono appunto le dimensioni aziendali e il basso reddito aziendale ma anche altre. Per esempio il fatto che queste tecnologie siano molto spesso collegate alla presenza di una rete internet, quindi sono in qualche modo tecnologie che utilizzano dati digitali online, non in tutti i terreni agricoli abbiamo la possibilità di accedere a questi dati. Vedete soltanto il 50% circa delle zone rurali europee hanno un accesso adeguato. E poi occorrono delle conoscenze, cioè un contesto culturale atto adatto ad accogliere queste tecnologie. Quindi se pensiamo che spesso abbiamo dei lavoratori che superano anche i 70 anni di età difficilmente possiamo proporre certe soluzioni digitali a queste persone. Però sicuramente l'introduzione delle tecnologie diciamo smart, tra virgolette, porteranno impatti positivi come un aumento della produzione agricola, della produttività e delle rese, una riduzione dei costi e sicuramente un miglioramento della sicurezza e qualità alimentare attraverso un migliore monitoraggio e tracciabilità della catena alimentare, un miglioramento del benessere animale e in generale un miglioramento della sostenibilità ambientale. Quindi il fatto di utilizzare meno risorse, meno input, comporterà sicuramente diciamo un miglioramento dal punto di vista ambientale, dell'impatto ambientale dell'agricoltura in genere ma anche nel settore forestale. Per quanto riguarda invece la salute e la sicurezza degli operatori, sicuramente abbiamo detto potranno essere ridotti i rischi in relazione alla riduzione della forza lavoro e quindi da questo punto di vista già avremo una riduzione di infortuni e malattie professionali ma soprattutto saranno utili per migliorare il controllo dei processi e la gestione degli stessi sistemi di sicurezza e salute sul lavoro. Cioè molto spesso, sempre più spesso abbiamo a che fare con tecnologie che in qualche modo monitorano o comunque riescono a gestire alcuni aspetti legati anche alla sicurezza degli operatori stessi o la loro salute. Si ridurranno per i motivi che dicevo prima anche gli input chimici e quindi il rischio chimico dovrebbe essere ridotto grazie a queste tecnologie. E il fatto di avere per esempio sistemi automatizzati, sistemi che fanno un controllo per esempio delle condizioni ambientali al posto nostro e quindi ci dicono loro quando andare a fare un trattamento oppure un'irrigazione eccetera, ci daranno diciamo agli agricoltori maggior tempo libero quindi un miglioramento del cosiddetto work life balance per gli agricoltori stessi. Alcune di queste tecnologie nascono proprio poi mirate alla sicurezza e alla salute sul lavoro quindi non potranno che apportare benefici. Per quanto riguarda invece il settore forestale, un drastico calo degli infortuni si potrà avere con il passaggio delle attività di taglio con la motosega, quello che avviene diciamo oggi comunemente, con macchine invece del genere che vediamo in questa figura cioè con degli Harvester dove un operatore in cabina riesce a fare diverse operazioni che farebbero invece più operatori con motosega esponendosi a più rischi quindi in questo caso si può fare un abbattimento, una sramatura, una scortegciatura, un carico, tutto in una situazione di tutta sicurezza. È chiaro che sono macchine costose anche in questo caso e che poi richiedono particolari condizioni per accedere in bosco che non sempre si presentano. Questi sono gli aspetti positivi ma ci sono anche delle minacce apportate dalle nuove tecnologie. Come dicevo prima le macchine quando sono state introdotte hanno sicuramente ridotto il rischio però poi hanno portato nuovi rischi e lo stesso potrebbe accadere con queste nuove tecnologie quindi sono tecnologie che bisogna valutare attentamente prima di mettere in uso, prima ancora di metterle sul mercato al servizio degli agricoltori. Proprio per evitare di introdurre diciamo nuovi pericoli e pericoli diciamo non controllabili. Vanno quindi definiti dei protocolli di sicurezza ad esempio per quanto riguarda le macchine ad oggi è in vigore la direttiva macchina cosiddetta non un decreto che è il decreto 17 del 2010 che prevede che il costruttore prima di mettere in commercio una macchina deve valutare che siano rispettati tutti i requisiti di sicurezza sulla macchina stessa e poi potrà certificarla e metterla sul mercato. Il problema è che già questa direttiva è vecchia perché nel frattempo sono esplose tutte queste tecnologie moderne basate sul digitale che sono ormai a bordo di quasi tutte le macchine. Siamo stati nella settimana scorsa a lei ma la fiera di Bologna dove c'era un espositorio di tutto il mondo di macchine agricole e praticamente non c'era una macchina che non avesse a bordo dei sistemi digitali di controllo di monitoraggio e quant'altro. Ecco è chiaro che tutto questo aspetto di questa elettronica di bordo diciamo non è non è proprio contemplato dalla direttiva macchine perché sono tecnologie che all'epoca non c'erano e il legislatore sta avendo molte difficoltà anche ad aggiornare la direttiva macchine che tra l'altro a breve dovrebbe cambiare si dovrebbe parlare di regolamento macchine non più di direttiva quindi entrerà in vigore tutto il territorio europeo nel momento in cui sarà fatto il nuovo regolamento però ripeto ci sono delle difficoltà a stare dietro a tutte queste innovazioni quindi il legislatore ad oggi non riesce ancora a emanare un regolamento definitivo la riduzione della mano d'opera ovviamente può comportare l'amento di una situazione che già è presente in agricoltura e comunque è un pericolo di per sé il lavoro in solitudine riguardante un pericolo riguardante soprattutto situazioni di emergenza la gestione dell'emergenza quindi in caso di malessere o quant'altro infortuni eccetera il soccorso l'infortunato la persona che si è sentita male eccetera che può diventare sempre più complicato ma ci sono già delle tecnologie che riescono in qualche modo ad aiutare in questo senso un'altra diciamo nuova tecnologia che è sempre più diffusa è quella basata sull'intelligenza artificiale da questo punto di vista andranno sicuramente sempre più considerati alcuni aspetti etici per esempio c'è una macchina che svolge delle operazioni in modo autonomo grazie all'intelligenza artificiale ma dovesse verificarsi un incidente un infortunio con questa macchina perché magari la macchina va ad urtare una persona o quant'altro di chi è la colpa del proprietario della macchina di chi l'ha programmata del costruttore o di che ne so della macchina stessa quindi non è non è facile gestire questi aspetti sempre legati al software di bordo delle macchine ci può essere come tutti i software il problema visto che sono molto spesso collegati in rete problemi di hacking cioè praticamente malintenzionati che potrebbero entrare nel software di macchina e quindi manometterlo con tutte le conseguenze possibili immaginabili sulla sicurezza della macchina stessa quindi diciamo che qui ci dovranno essere dei sistemi di sicurezza da da aggiungere le macchine e infine un altro aspetto che dobbiamo assolutamente considerare è quello che dicevo della formazione cioè introduciamo sì nuove tecnologie ma poi ci deve essere la possibilità di saperlo utilizzare e utilizzare in modo corretto in particolare riguardo i cambiamenti climatici sicuramente già incidono oggi cominciano a incidere presentemente già sull'agricoltura attuale abbiamo visto tutto e tutti diciamo i problemi dati alla siccità di quest'anno abbiamo visto anche altri problemi come per esempio negli anni scorsi degli incendi e così via oppure le alluvioni purtroppo sono sempre più frequenti questi fenomeni estremi con diciamo grossi impatti sull'agricoltura e allora dal punto di vista sicurezza salute anche abbiamo degli impatti per esempio l'aumentare di questi eventi climatici estremi che porterà probabilmente ad un maggior rischio di incidenti dovuti provocati direttamente o indirettamente da questi eventi oppure anche semplicemente un incremento del carico diciamo di stress chiamiamolo così tra virgolette da parte degli addetti a lavori con pressioni finanziarie nel senso che l'imprenditore ad esempio si vede minacciare il proprio raccolto o comunque i propri beni il proprio reddito in generale i lavoratori vedono minacciati i loro posti di lavoro e quindi insomma ci sarà sicuramente da combattere queste nuove forme sempre più diffuse di stress nel settore inoltre abbiamo un aumento della delle temperature che incide anche direttamente sulla salute eh già l'esposizione solare negli ultimi anni ha ha provocato diversi casi di tumori della pelle che sono stati riconosciuti in agricoltura come malattia professionale anche nel Lazio ci sono stati diversi casi eh riconosciuti e indennizzati come malattia professionale perché gli operatori ovviamente lavorano in campagna all'aperto e quindi sono soggetti a una maggiore esposizione al sole e come sappiamo il sole è diventato abbastanza aggressivo vista la la sottigliarsi no dello strato atmosferico di ozono con una maggiore pericolosità che quindi ehm impone sempre più la protezione una protezione che può essere un ombreggiamento lavorare in zone ombreggiate oppure l'utilizzo di creme barriera la diffusione di cui parlavo prima delle malattie diciamo delle fitopatie in posti diciamo impensabili prima quindi per esempio non so faccio l'esempio dell'axilella in Puglia che o ma gli esempi sono diversi ormai eh comporta che cosa la necessità di intervenire e spesso si interviene anche così male con per semplice paura con massicce dosi di agenti chimici che poi magari non provocano l'effetto desiderato ma provocano eh un aumento dei rischi per gli operatori e per l'ambiente maggiori periodi di siccità e la tendenza alla desertificazione di certe zone comporterà sicuramente un aumento delle polveri di cui parlavo prima quindi le concentrazioni di polvere già pericolose in certe in certe lavorazioni probabilmente lo saranno molto di più in futuro e tutto ciò in generale poi può incidere sulla salute mentale degli operatori attraverso quello che chiamiamo di stress cioè uno stress negativo cioè non è lo stress che abbiamo più o meno tutti ma questo si parla di di stress quando il carico diciamo di stress diventa tale da comportare la potenziale comparsa di patologie anche gravi eh a livello mentale e non riguardo il settore forestale ugualmente avremo rischio di maggiori periodi di siccità maggiori rischi di incendio incendi boschivi che sono purtroppo già aumentati negli anni recenti eh minore quantità di pioggia può portare a maggiore rischio di caduta di rami o rottura di tronchi quindi schianti di alberi con ovviamente potenziali rischi per la sicurezza di chi opera in bosco e anche in questo settore un aumento del carico diciamo di stress tra virgolette per eh timore più o meno comprovato no di di diciamo di perdite finanziarie e di altri problemi correlati riguardo i cambiamenti sociali abbiamo di ieri mi sembra la notizia che abbiamo raggiunto gli otto miliardi di persone sul pianeta e quando vedete che nel duemila quindici eravamo sette miliardi virgola tre quindi mh già che rapida crescita c'è stata in questi pochi anni e sono previsti vedete intorno al duemila cinquanta eh il superamento dei nove miliardi di cioè quasi dieci miliardi di persone sul pianeta quindi se la crescita continua a questi livelli eh dovremmo sfamare no l'agricoltura dovrà sfamare una popolazione enorme ma questo in una in un'ottica di una eh di una disponibilità di terreno coltivabile via via minore per diversi motivi eh pensate semplicemente alla desertificazione oppure alla eh cementificazione alla alla all'aumento del livello medio marino no tutte tutte cause e quindi conseguenze salinizzazioni di alcune zone costiere ma sono tutte cause di perdita di suolo e che contrastano la possibilità di sfamare invece più persone già ci sono oggi tante persone che soffrono la fame e allora ti dovranno fare grossi sforzi l'agricoltura sarà chiamata a grossi impegni sicuramente gli agricoltori da questo punto di vista vedranno un carico di lavoro maggiore ma soprattutto un carico di stress appunto maggiore ehm le tecniche di agricoltura di precisione tecniche basate sul digitale saranno sono proprio finalizzate anche a contrastare a combattere questo problema cioè nel senso a produrre di più con meno ecco da una parte poi invece abbiamo anche ancora diciamo un'agricoltura biologica che è in in crescita benché diciamo un'agricoltura di nicchia non può non possiamo pretendere che sfamini intera popolazione però probabilmente potrà ancora attrarre quella mano d'opera che viene persa invece nell'agricoltura mh tradizionale convenzionale un trend sociale è quello dell'aumento dell'attivismo contro gli agricoltori a torto a ragione molto spesso gli agricoltori sono così imputati di essere colpevoli di un impatto ambientale eccessivo e sicuramente questo non fa altro che aggravare ulteriormente no lo stress psicosociale per queste categorie riguardo il mercato del lavoro un aspetto molto importante da considerare il fatto è quello della multi occupazione degli agricoltori sempre più frequentemente abbiamo a che fare con persone che lavorano nell'agricoltura ma hanno anche un secondo lavoro per esempio per integrare il reddito oppure persone che hanno un altro lavoro ma che nel tempo libero si dedicano all'agricoltura perché magari hanno ereditato un campo dai genitori e così via sicuramente non sono situazioni che vanno a favore della sicurezza quindi anzi come dicevo prima molti infortuni avvengono tra questi obbisti tra virgolette e non vengono neanche poi rilevati molto spesso un'altra categoria che un po sfugge alle statistiche sono i lavoratori autonomi più che sfuggire alle statistiche sfuggono alla legge stessa perché per quanto riguarda i lavoratori autonomi le imprese familiari che sono molto diffuse in agricoltura il testo unico la normativa in materia di sicurezza salute sul lavoro non si applica se non in un piccolo articolo articolo 21 che però prevede diciamo non degli obbligi quanto delle facoltà di questi lavoratori autonomi per esempio di fare formazioni di fare sorveglianza sanitaria e questo è un problema tant'è vero che si sta pensando a livello europeo come fatto già in altri settori di introdurre invece delle disposizioni obbligatorie per quanto riguarda gli aspetti di sicurezza e salute anche verso questi lavoratori un problema sempre del mercato del lavoro è un po la senilizzazione del lavoro in questo settore abbiamo sempre più frequentemente persone anziane che lavorano in agricoltura e purtroppo se andiamo a vedere i dati statistici molto spesso gli infortuni più gravi avvengono proprio a carico delle persone più anziane per ovvi motivi per esempio la minore prontezza di riflessi minore attenzione e così via che fisiologicamente poi interviene con una certa età quindi per concludere sicuramente possiamo dire con certezza che il settore agricolo e forestale restano tra i settori più pericolosi in assoluto e dovremo in futuro continuare diciamo a porre particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e salute del lavoro agricolo ovviamente dipende anche da noi non intendo settore della ricerca e della anche dell'alta formazione far scendere diciamo i livelli di rischio nell'agricoltura del futuro il rischio è sempre una combinazione diciamo di qualche problema che si determina l'ambiente lavoro una non conformità una macchina che ne so un guasto qualcosa del genere con un comportamento della persona che non è idoneo perciò si deve intervenire proprio da questi due punti di vista da una parte con la tecnologia con la messa a disposizione di tecnologie sicure dall'altra con una formazione idonea verso i lavoratori addetti quindi formazione specifica per la sicurezza della salute sul lavoro una formazione non può essere fatta però da persone che si improvvisano formatori che magari del settore non ne sanno nulla altrimenti i risultati saranno quelli che sono purtroppo ancora oggi cioè c'è bisogno di formatori veramente preparati nel settore la figura le figure che cerchiamo di formare da un po di tempo a questa parte per esempio nella nostra università sono figure che conoscano non soltanto tutti i processi agricoli gli aspetti economici di produzione e così via ma anche aspetti di sicurezza e di salute sul lavoro siamo stati primi in italia a rilasciare per esempio gli attestati per responsabili addetti servizi di prevenzione e protezione per il settore agricolo e forestale e ancora oggi siamo tra gli unici e ci sono molti studenti che scelgono anche di fare questa attività come attività formativa scelta è importante che insomma un agronomo anche se non si occupa direttamente di queste tematiche sia comunque formato abbia diciamo una formazione di base sulla materia dell'antinfortunistica e dell'igiene del lavoro un problema importante è quello della sottostima dei livelli di rischio che deriva molto spesso dalla sottostima degli infortuni abbiamo visto che nelle statistiche abbiamo dati che non sono reali poi se andiamo a vedere tra i vari paesi della comunità europea le metodologie di raccolta di questi dati sono diversi quindi non si possono fare neanche oggi dei paragoni fra che ne so livello infortunistico in francia in italia in portogallo e quant'altro manca una uniformità sul territorio europeo l'impatto delle nuove tecnologie diciamo abbiamo detto che può essere favorevole da questo punto di vista ci possono venire incontro per la riduzione dei rischi ma occorre comunque valutarle attentamente prima di metterle in campo consentiranno una riduzione di mano d'opera ma anche una maggiore richiesta di formazione per gli addetti ai lavori e le cause diciamo sono diverse ma soprattutto riconducibili alla digitalizzazione appunto quindi con una con un rischio di divisione digitale sempre presente in questi casi e all'introduzione di processi più complessi che richiedono sempre maggiori capacità intellettuali diciamo che l'agricoltore del futuro sarà un agricoltore molto diverso da quello attuale dovrà avere più conoscenze riguardanti aspetti tecnologici o comunque dovrà affidarsi a diciamo a consulenti che abbiano queste conoscenze altrimenti si rischia di rimanere ovviamente fuori mercato e la nuova normativa non potrà più trascurare i coltivatori diretti le aziende familiari perché sennò rimarrebbe come lo è ad oggi scoperta dalla tutela della sicurezza della salute è una fetta di popolazione molto vasta le aziende agricole e forestali le imprese forestali italiane sono molto piccole la gran parte ovviamente poi sono anche quelle grandi ma se andiamo numericamente sono molto prevalenti quelle molto piccole a volte appunto condotte soltanto dal proprietario o dalla sua famiglia quindi che sfuggono alla normativa di sicurezza salute sul lavoro sicuramente abbiamo detto queste tecnologie sicuramente aiuteranno ma hanno dei costi e quindi probabilmente la politica dovrà essere diretta verso una incentivazione dell'adozione di questi macchinari intelligenti sicuri eccetera oggi per esempio ci sono i bandi i famosi bandi easy dell'Inail quindi ogni anno l'Inail interviene finanziando l'acquisto di nuovi macchinari per ovviamente eliminare quelli più vecchi e più pericolosi quindi per la riduzione del rischio però questo dovrà probabilmente essere affiancato ad altre misure per appunto favorire questo ricambio delle tecnologie in uso. Un'altra cosa fondamentale che ricordo che ho già accennato è l'aspetto legato alla integrazione della sicurezza proprio già in fase di progettazione della nuova tecnologia i progettisti gli ingegneri gli informatici e quant'altro devono avere competenze in materia di sicurezza perché quando vanno a introdurre una nuova tecnologia su un macchinario ad esempio dovranno fare in modo che questa non possa comportare rischi aggiuntivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Un'ultima cosa volevo aggiungere oggi si parla molto di One Health il concetto One Health cioè praticamente un approccio sanitario olistico quindi dove la salute la sicurezza in pratica dell'operatore del lavoratore nel nostro caso si integra in un concetto molto più ampio di sicurezza ambientale salute degli animali vedete salute del consumatore quindi diciamo una salute a 360 gradi o meglio come direbbe qualcuno a 4 pigre coste radianti vale a dire a tutto tondo non possiamo più diciamo focalizzarci soltanto sugli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro senza conoscere tutto ciò che c'è intorno per esempio l'impatto ambientale l'impatto sul prodotto finale eccetera ovviamente questo richiede delle conoscenze diverse quindi diciamo quello che è lo staff dei consulenti di un agricoltore oggi dovrebbe essere uno staff così molto preparato diciamo in diverse materie in grado quindi di integrare i concetti di salute e sicurezza su più aspetti non soltanto sulla sicurezza chi soltanto sulla sicurezza alimentare chi soltanto sull'ambiente chi soltanto sull'agricoltore eccetera ma tutti dovrebbero operare diciamo nella stessa direzione per raggiungere questi obiettivi in modo comune non è un approccio semplice ma un approccio del quale si parlerà molto diciamo molto in futuro e per quanto ci riguarda noi stiamo organizzando ad esempio come università insieme ad altre università e una rete internazionale di esperti diciamo in sicurezza un convegno che si terrà a settembre dell'anno prossimo è la settima edizione quest'anno si chiama safety health and welfare in agriculture quindi salute sicurezza ma anche benessere in agricoltura dove inviteremo non soltanto l'igienista industriale l'esperto di sicurezza eccetera ma anche appunto chi si occupa di sicurezza degli alimenti chi di benessere animale proprio in questo approccio olistico che secondo noi potrebbe essere un po' un approccio vincente per il futuro anche per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori io con questo ho concluso questi qui vi lascio ecco il nostro sito inter nel sito web del laboratorio di ergonomia sicurezza del lavoro che ha sede a Viterbo presso il dipartimento di scienze agrari e forestali e inoltre qui invece trovate i social del di Porta Futuro Lazio che ringrazio per aver organizzato questo ciclo di seminari diciamo nell'ambito del quale poi c'è il ciclo di seminari di scienze della montagna e di gestione digitale dell'agricoltura e del territorio montano e quindi niente ringrazio tutti voi per l'attenzione e rimango a disposizione per eventuali domande professore io la ringrazio perché hanno dei presenti e apro un po' le danze perché mi sono presa un appunto probabilmente sembrerò un po' l'italiano medio ignorante in materia per quanto riguarda lo smart farming c'è una bella lista insomma di pro e contro in particolare è una via, un'opzione che consente di ridurre i rischi però abbiamo visto che ci sono dei costi da sostenere c'è il rischio anche di perdere la manodopera semplice per sostituirla con un personale più specializzato nel campo l'Italia che vede questa abbondanza di piccole aziende agricole molto votate alla ricerca sempre di più appunto anche del biologico dell'agricoltura di nicchia quanto è impreparata allo smart farming cioè in termini di futuro quando potremmo ipotizzare di vedere una trasformazione simile qui da noi questa è la prima domanda e la seconda è se a livello europeo c'è già qualcuno come esempio che potrebbe appunto rappresentare un esempio per l'Italia per dire guardate che non è che c'è solo da perdere sì è una domanda bella complessa insomma non è semplice però come posso riassumere una risposta diciamo che pensiamo per esempio all'acquisto semplicemente di un trattore oggi molte piccole aziende comprano il trattore perché pensano che sia utile perché sia necessario per effettuare lavorazioni eccetera ma quel trattore non se lo ripagheranno mai perché se fassi esserlo prima due conti proprio non mai comprerebbero quel trattore cioè ci sono situazioni dove certe scelte vengono fatte così sulla spinta di emotiva perché magari il vicino l'ha fatto quell'altro l'ha fatto però poi non hanno nessun senso dal punto di vista economico e magari in certe aziende sarebbe molto più opportuno invece un ricorso a conto terzisti e questo è molto diffuso in Italia quindi il problema da cui partire è questo secondo me non dobbiamo più pensare alla macchina di proprietà macchina intendo anche tecnologia in generale quindi per ora diciamo focalizziamoci sul trattore ma poi questo può essere steso a qualsiasi tecnologia perché difficilmente una piccola azienda riuscirà poi a pagarsi in tempi in tempi diciamo accettabili quel fattore della produzione se andiamo invece a fare dei calcoli ci accorgiamo che magari avremo utilità a rivolgersi a un conto terzista quindi una persona che svolge quell'operazione o ci affitta la macchina diciamo e quindi senza doverla acquistare noi purtroppo però questa è una concezione tutta italiana di dover avere, di possedere il fattore della produzione per produrre il futuro quindi potrebbe essere invece vantaggioso e qui diciamo gli agronomi che si forma anche nei nostri corsi di laurea dovrebbe cominciare a diffondere un po' la cultura proprio economica quindi dell'uso economico del bene del fattore della produzione potrebbe essere appunto vantaggioso per tutti laddove si cominciassero a sviluppare dei servizi per l'agricoltura servizi quindi molto servizi al posto di macchine o tecnologie cioè sarà la società di servizi il conto terzista l'agronomo stesso magari che si dota di determinate attrezzature per poter poi fornire il servizio all'azienda che ne ha bisogno che ne ha bisogno e fornire un servizio competitivo quindi per l'azienda stessa la quale potrà produrre quindi con dei margini altrimenti si va necessariamente sotto vedete che per esempio oggi gli agricoltori non riescono a cambiarsi il trattore utilizzano ancora trattori vecchi finché non sono distrutti li portano avanti e poi sperano che non si rompano mai perché sennò dover comprare un trattore nuovo significa un disastro economico però poi questo comporta come dicevo l'utilizzo di macchine obsolete macchine pericolose quindi elevato numero di infortuni e difficilmente l'azienda si riesce a anche a mettere in regola con tutti gli aspetti della sicurezza dal punto di vista di esempi in altri paesi invece ce ne sono per esempio all'Olanda la Germania ci sono invece situazioni il primo dove ovviamente le strutture sono diverse quindi diciamo abbiamo una distribuzione in termini superfici quindi di ettari superfici medie per aziendali ben diverse da quelle nostre quindi magari certe tecnologie possono essere proprietarie e poi ovviamente anche incentivi o leggi dello Stato che favoriscono certe misure faccio l'esempio in Germania sono state per esempio è stata fatta una legge che prevede la revisione obbligatoria delle macchine agricole revisione dei trattori delle macchine agricole semoventi che vanno in strada anche da noi c'è la legge ma non c'è il decreto attuativo quindi è stata prorogata per più anni e questo che cosa significa che mentre in Germania gli infortuni mortali col trattore sono praticamente azzerati sono pochissimi i numeri veramente sotto si contano con una mano forse noi stiamo ancora sui 150 infortuni all'anno 150 infortuni mortali all'anno perché il trattore non viene revisionato a nessuno nessuno ci impedisce di utilizzare trattori che non hanno protezioni e quindi diciamo c'è la necessità di un cambiamento di mentalità sia da parte del legislatore e anche delle associazioni di categoria che spesso purtroppo sono le associazioni di categoria che spingono il legislatore ma c'è la legge però impediscono che ci siano dei decreti attuativi per cercare di difendere un po' le già deboli casse delle aziende agricole giustamente però da una parte non facciamo spendere ma dall'altra poi facciamo morire le persone grazie la risposta mi rendo conto la domanda era abbastanza complessa ma credo che sia un po' appunto il dubbio di chi non è inserito in maniera diretta nel settore e quindi un po' intimorito da diciamo che le opportunità sono tantissime sicuramente se applicate bene supereranno i costi ma vanno applicate correttamente quindi c'è bisogno di persone che sappiano diciamo così istruire o le aziende o consigliare le aziende in modo corretto per applicare tecnologie che a quel punto diventano sicuramente vantaggiosi altrimenti rischiano di diventare un boomerang dal punto di vista economico soprattutto chiedo agli spettatori se c'è qualche domanda dal pubblico io incolgo l'occasione sempre per fare un'altra domanda che è abbastanza scomoda l'evoluzione nell'ambito agricolo appunto smart potrebbe comportare un incremento dei prezzi dei prodotti che magari è uno degli altri timori che si possono avere in teoria no perché riducendo i costi è vero che la tecnologia costa però si riducono i costi dei fattori diciamo tipo concimi fertilizzanti eccetera lo stesso carburante che sono dei costi molto importanti oggi soprattutto i costi energetici quelli dovrebbero ridursi e quindi i costi di produzione in generale dovrebbero ridursi aumentando la produttività e le rese quindi in teoria non ci dovrebbero essere motivi di un aumento dei prezzi dei prodotti al consumo potrebbero aumentare i margini per gli agricoltori cosa di quale si parla sempre però si fa sempre poco quindi un modo per aumentare i margini potrebbe essere l'adozione di queste tecnologie vedo che non ci sono domande abbiamo diciamo probabilmente colmato tutte le curiosità a riguardo io quello che posso dirvi appunto che le slide saranno a disposizione basta inviare una mail alla sottoscritta tatiana marra schiocciola unitus punto e ve le inoltreremo senza alcun tipo di problemi oppure se dovessero venirvi delle domande successivamente potete anche fare riferimento a me e possiamo chiederle in maniera indiretta al professore in un tempo successivo e detto ciò la ringrazio professore per il seminario ringrazio anche Porta Futuro Lazio a questo punto ne approfitto anche io e do l'accontamento a tutti alla prossima settimana con il prossimo incontro grazie arrivederci arrivederci